È stato difficile scoprirla. Uno dei nostri stalloni è un lettore appassionato del suo giornale. Ma come lo troverai il tempo di leggere? Potrei riavere la mia roba? Vorrei rivestirmi. La tengo io per precauzione. Se uscisse di qui così, non andrebbe lontano. Riavrai i vestiti quando mi darai il suo rollino. Lei è stata osservata e mi risulta che ha scattato delle fotografie. Comunque non abbiamo fretta. Aspettiamo. Se le piace vivere chiusa in una stanza, io non posso fare altro, lei capisce? Con tutte le clienti che abbiamo nel mondo. E se per caso il rollino non venisse fuori, rimarrò qui a vita? No, prima o poi ce lo consegnerà. E lei potrà raccontare quello che vuole senza le prove. Abbiamo le spalle coperte. La nostra è una grossa organizzazione. Ci sono dietro persone importanti, protezioni. Comunque non le conviene tirare troppo la corda. Potrebbe anche capitarle qualcosa di spiacevole. È facile inventare una cosa. Abbiamo amicizia nella polizia, New York è lontana. Ci rifletta su. Posso bere qualcosa? Mi fa compagnia. Mai bevuto, mai fumato. E gli uomini? Non stiamo qui a discutere la mia vita privata. Da lei voglio solo il rollino. Perché tanta fretta? Via, facciamo amicizie. Così magari mi faccio convincere. Non ti piacciono gli uomini, eh? Ma l'amore? Pensa. Due mani femminili che ti carezzano, ti toccano, ti cercano. Conoscono i punti giusti. Ecco, tieni. Vedrai come ti apparirà tutto più bello. Più dolce, più eccitante. Basta! Non dica più porcherie, la smetta, mi fa schifo! Non lo sopporto! Non sarei mica virgine. Non saresti da buttar via, lo sai? Basta! 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 Grazie a tutti